Ciao a tutti amici miei, oggi parliamo di un argomento molto molto interessante per noi amanti di droni e in particolare di droni FPV parliamo di caricabatterie, ve ne voglio portare uno qui sul canale che è uscito da un bel po' di tempo forse anche di 6, 6 anni e mezzo, quindi è da parecchio che sta in giro sul mercato ma non tutti ne parlano e non tutti ne sono a conoscenza ve ne voglio parlare soprattutto perché ha due valori aggiunti molto importanti il primo è che è un caricabatterie entry level che penso che è tra i meno costosi che potete trovare in giro ed ha un rapporto fenomenale qualità costo e il secondo aspetto è che è portabile completamente minuscolo e come faccio io, come lo utilizzo io nella maggior parte dei casi ve lo potete portare direttamente sul campo e utilizzarlo per caricare le vostre batterie e diventare anche unstoppable quando si parla di batterie arriva arriva calmatevi sto parlando di questo che è l'ISDT Q6 Nano cioè guardate ragazzi quanto è piccolo progettato, realizzato dalla ISDT che se state nel settore ragazzi è una marca che dovete conoscere sinonimo di qualità in particolar modo quando si parla di caricabatterie ragazzi fanno caricabatterie spettacolari prima di andarlo a vedere da vicino qui sul banco se non lo avete ancora fatto vi invito a iscrivervi al canale qui in basso attivate la campanellina così rimarrete sempre aggiornati su contenuti che vi potrebbero interessare come questo pollicione in alto mettete il like per supportarmi che è gratuito e se mi volete supportare un po' di più vi potete iscrivere la mia community su Patreon trovate il link e tutte quante le informazioni qui sotto venite che vi aspetto che lì ci divertiamo e approfondiamo alla grande tantissime tematiche che riguardano il mondo dei droni FPV eccola qui la confezione del nostro Q6 nano microscopica all'interno c'è proprio il minimo indispensabile il caricatore si estrae facilmente grazie a queste buchetti che ci sono qui nella confezione abbiamo lui che adesso lo vediamo da vicino guardate quanto è minuscolo cioè entra nel palmo di una mano leggerissimo abbiamo un proteggischermo di tipo adesivo che va applicato qui sopra perché la parte superiore è lucida e si potrebbe rigare quindi fatelo subito e abbiamo un classico manuale di istruzioni insomma ben spiegato ma alla fine il menu con l'interfaccia classica della ISDT è veramente molto intuitivo non avete alimentatore attenzione ma di questo ne parleremo subito è il caricabatterie più piccolo e tra i più economici che potete trovare in giro sul mercato parliamo di un'ampiezza di 72 mm per 72 mm per 32 mm di spessore il display è molto piccolo ma comunque si vede tutto quanto benissimo ed è un LCD da 2.4 pollici con un angolo di visualizzazione di 178 gradi lui è leggerissimo non pesa niente parliamo di 119 grammi che potete portare sempre con voi ha soltanto questo pulsantino per l'operatività che è un pulsantino a tre funzioni quindi posso premerlo in alto, in basso e al centro su questa parte sul lato sinistro abbiamo questo ingresso che è tensione XT60 non avete un alimentatore su questo caricabatterie qui sta a voi decidere come utilizzarlo io in particolare lo utilizzo alimentandolo con lipone o l'ion cicciottelle come questa pensate che questa qui mi dà 8000 mAh quindi ci posso addirittura andare a caricare le 4, le 5, 6S per i nostri 5 pollici ovviamente dipende dalla dimensione della batteria qui abbiamo una lipo da 5600 e qui un'altra l'ion da 4000 che questa la utilizzo quando mi porto i piccoletti in giro volendo potete utilizzare questo setup oppure potete prendere degli alimentatori che sono in grado di alimentare questo caricabatterie in DC perché l'alimentazione può essere solamente di tipo DC come per esempio l'alimentatore della toolkit che vi lascio linkato qui sotto in descrizione questo se lo volete utilizzare con le prese di casa qui su questo lato abbiamo sempre una porta d'ingresso di tipo micro USB può essere utilizzata sia per l'alimentazione minima ma può essere anche utilizzata per l'aggiornamento firmware se lo riterrete necessario se qui abbiamo l'input su quest'altro lato abbiamo l'output e quindi un ingresso per il cavo bilanciatore fino a 6S e ovviamente un'uscita di tipo XT60 che verrà utilizzata per caricare le vostre batterie qui su questo lato abbiamo la ventolina di raffreddamento che è abbastanza silenziosa e che fa uscire l'aria calda da quest'altro lato dove abbiamo queste prese d'aria qui sotto abbiamo dei gommini antiscivolo molto molto utili e qui sotto ci sono delle scrittine molto importanti che ci ricordano tutti i dati di questo caricabatterie leggeteli bene e teneteli sempre bene a mente perché se non lo utilizzate bene rischiate di bruciarlo abbiamo un voltaggio di ingresso di tipo appunto DC da 10 a 30 volts la corrente di ingresso non deve superare i 9 ampere la corrente di uscita arriva ad un massimo di 8 ampere e ragazzi praticamente ci caricate la maggior parte di tutte quante le batterie che ci avete e questo cosettino minuscolo ha una potenza massima di 200 watt se avete esigenze di questo tipo quindi caricabatterie piccoli e portatili che vi supportano fino ad 8s c'è il suo fratellone sempre piccolino che si chiama Air 8 ve lo lascio sempre linkato qui sotto in descrizione lo vado adesso ad alimentare vedete si accende e di qua vado ad inserire la lipo che voglio caricare con il pulsante di navigazione in alto e in basso posso switchare tra queste due tab che vedete qui la prima scheda mi dà i volts di ogni singola cella della batteria che voglio caricare il suo voltaggio totale che è 15.1 andando a navigare in basso vedete c'ho altri dettagli in particolar modo qui c'ho tutto quello che riguarda la mia alimentazione in ingresso quindi vedete c'ho questa Leon che sta buttando dentro 23.5 volt in questo istante temperatura, watt e via discorrendo andando a premere il pulsante al centro entro nel menu principale che scorriamo velocemente qui scelgo il tipo di task che voglio quindi abbiamo il charge che è sempre di tipo bilanciato la scarica posso mettere in storage questo è molto utile se devo fare dei check al volo alimentando il drone ad esempio a 5 volt questa è una funzionalità molto carina che non tutti hanno vado a scaricare completamente la batteria quindi la posso smaltire in estrema sicurezza qui abbiamo la tipologia di batterie che sto caricando nel mio caso ovviamente abbiamo una lipo insomma guardate qui ce l'abbiamo proprio di tutti quanti i tipi mi dice che il massimale per cella che lui utilizzerà sarà 4.20 i dati che ci stanno sono già configurati a dovere quindi non dovete toccare nulla mi dice quante sono le celle della batteria che ho messo e qui posso decidere appunto il numero di ampere che vado ad inserire nel mio caso è una 1500 posso anche decidere di caricare a 1.5 ampere per stare sull'1c quando sono pronto gli posso dire start e lui parte con la carica e vedete mi sta dicendo tutti quanti i dati principali sta caricando a 1.5 ampere mi dice gli MH che sta buttando dentro la batteria questa è una funzione che mi piace tantissimo mi dà i dati della schermata che abbiamo visto prima andando ad utilizzare il pulsantino di navigazione posso scorrere tra i tab che abbiamo visto prima ma adesso sta in carica e ne abbiamo di più perché abbiamo la resistenza delle celle interna molto interessante lui ha tutti quanti gli allarmi sonori quindi se c'è qualcosa che non va ve lo dice sia a schermo sia inizia a bippare attirando la vostra attenzione ragazzi a tutto quello che vi serve veramente molto molto carino se utilizzate una configurazione di tipo 1c la batteria vi si carica in circa 40 minuti quindi ogni 40 minuti avete sempre una batteria a disposizione ma se avete bisogno di dare un'acceleratina potete andare ad aumentare un po' gli ampere di ingresso questo dipende da voi e abbassare i tempi di ricarica a chi lo consiglio? lo consiglio a chi non ha tante pretese vuole spendere poco e vuole avere già un caricabatterie che gli consente di fare questo lavoro e di farlo in modo eccezionale chi lo utilizza per i droni a 1s quindi i piccoletti perché ragazzi potete utilizzare una parallel board con connettore XT60 e quindi potete caricare le vostre batterie 1s in parallelo e quindi andare a caricarne più di una contemporaneamente vi assicuro che questo metodo sia sul campo sia a casa vi fa volare all'infinito con i piccoletti la parallel board ve la consiglio solamente con lipo 1s perché caricare lipo in parallelo potrebbe essere pericoloso se stiamo sull'1s è abbastanza tranquillo se andiamo a salire di numero di celle dovete fare particolare attenzione quando utilizzate questo metodo perché potrebbe essere molto pericoloso ma non è oggetto di questo video e lo consiglio come è l'utilizzo che ne faccio io a tutti coloro che hanno bisogno di portabilità quindi portarsi un caricabatterie sul campo in particolare io lo utilizzo ogni volta che vado a lavorare con i miei droni FPV perché utilizzo qualche Lyon qualche batteria particolare che ce n'ho a numero contato la utilizzo dopodiché la metto in carica continuo a lavorare continuo a fare le mie belle riprese e intanto quella batteria si ricarica come al solito se lo volete acquistare e volete supportare il canale vi invito ad utilizzare i link che vi lascio qui sotto in descrizione e qui sotto in descrizione vi lascio pure i link agli oggetti che sono molto utili e vanno in combo con questo caricabatterie che mi piace tantissimo spero che questo video vi sia piaciuto mi raccomando mettete un bel like per supportarmi e noi ci vediamo alla prossima correte a caricare le vostre lipo soprattutto sul campo dai ci vediamo al prossima ciao ciao ciao